A Propaganda Live, Sabina Guzzanti ipotizza che la Meloni diventi segretario del Partito Democratico. Insomma, sapete che la Guzzanti non è certo un personaggio di centrodestra, però a volte i personaggi di sinistra, nelle loro parodie come Crozza, a me fan morire da ridere. Ma Crozza soprattutto, tutti i giorni cerco quando fa le parodie su Salvini e su Meloni perché mi ribalto in parcheggio da ridere quando Crozza imita, non è che imita, fa la parodia grottesca di Meloni e Salvini, anche quelle su Zaia fanno ridere, quelle su Redroni. Se vi interessa c'è il suo canale Il Nove su YouTube dove trovate i video di Crozza, sono veramente... guardate, è una roba... naturalmente quei video di fondo prendono in giro, quelli di centrodestra con delle battute anche, però fan troppo ridere. E così la Guzzanti dice a Giorgia Meloni converrebbe diventare segretario del PD. Siamo a Propaganda Live sulla Sette, ospite di Diego Bianchi. E così ipotizza questa fantapolitica. Dice, è l'unico nome che ha un minimo di credibilità, la Meloni, di esperienza politica, e che è anche minimamente un po' donna. Avrete capito, dice la Guzzanti, sto parlando di Giorgia Meloni, mi rivolgo a lei, la Giorgia madre, Giorgia italiana, la Giorgia, e anche un po' a Giorgio. A me fanno ridere queste parodie, cosa vi devo dire? C'ho il sensato dell'umor, c'ho il sensato dell'umorismo, ecco se mi volete dire. Quindi elenca i vantaggi del doppio incarico di Premier e segretario del PD. Dice così la Guzzanti, fare il segretario del PD si può fare come secondo lavoro, nei ritagli di tempo, e la proponiamo come leader di sinistra-sinistra. Sarebbe l'unica a poter ricoprire il ruolo senza essere accusata di avere un passato comunista. E rivolverebbe una volta per tutte, risolverebbe il problema dei suoi rapporti con i nostalgici. Nessuno la chiamerebbe segretaria, mi hanno garantito che tutti la chiamerebbero segretario. E a voi non fa ridere, a me fa ridere, cosa vi devo dire? Dal punto di vista dei contenuti avrebbe le mani completamente libere. Vuole sostenere la crisi internazionale, vuole andare in piazza contro, può farlo, dice le alleanze, vuole governare con Salvini? Il PD lo può fare. Solo con Berlusconi? Anche. Può fare tutto quello che vuole. Il piccolo sacrificio che le chiederemmo sono proprio piccoli. Poi dice, data la situazione familiare, è abbastanza probabile che anche i suoi familiari vorranno fare gli attori, le attrici, ma con un cinema in mano alle lobby di sinistra questo non sarà mai possibile. Diventi segretario del PD, lo faccia dunque anche per i suoi familiari. Dice, quando si tornerà al voto, lei potrà dire ai suoi elettori del PD, signori è vero, abbiamo fatto una politica di destra, ma se non ci rivotate c'è il rischio che vinca la destra. Vabbè, insomma, magari a voi non ha fatto ridere, a me ha fatto ridere. Quindi la Meloni, segretaria del Partito Democratico, nei ritagli di tempo, dice, nel tempo libero, non so, magari il sabato mattina, fai il segretario del PD, segretario però, non la segretaria del PD, il segretario del PD. Gli hanno garantito che la chiameranno segretario. Giorgia, Giorgio. Vabbè, insomma, un po' di divertimento ci vuole ogni tanto. Fai divertire un po' questo chant, non si divertene mai, sembri chiusi in casa loro, nel loro cuscio. Fai divertire un po' questo chant. Vabbè, che cosa vi devo raccontare? Vi devo raccontare che, ma questo forse ve lo racconto in un altro video. Cosa dice Bersani sul reddito di cittadinanza da Lilligruber? Ecco, sapete che Bersani è quello che pettina i giaguari, quelle cose lì, no? Vabbè, se la prende con la legge di bilancio, con il lassismo fiscale, la BCE non ci darà più una mano, guerra ai poveri, lo sguardo del governo sul paese non è sincero, è ideologico, l'inflazione al 10% è una patrimoniale sulla fascia più debole e su un pezzo del mondo del lavoro. Sì, ma Bersani, come non puoi dirmi che l'inflazione è colpa della Meloni? Dai, queste qui sono cretinate, dai, le puoi raccontare a un popolino boccalone che ti crede, ma a delle persone intelligenti, dirgli che l'inflazione al 10% è una patrimoniale sui deboli, facendo intendere che fa parte delle colpe della Meloni, non ha senso. È vero che l'inflazione è una patrimoniale sulle fasce deboli, è vero che se tu non hai un salario minimo e non hai dei sindacati capaci di fare dei sindacati e fare rinnovare i contratti, allora ci perdono le fasce più deboli, però non puoi dire che l'inflazione è colpa del governo, ma si può dire che il governo potrebbe mettere il salario minimo e legarlo a una sorta di scala mobile che ogni anno aumenta in base all'inflazione. Ecco, fare un salario minimo e legarlo a una scala mobile, legarlo all'inflazione. Ogni anno questo salario minimo aumenta con l'aumentare dell'inflazione. È un qualcosa che bisogna fare per il Paese e non bisogna perdere tempo. Bisogna alzare. Ma l'avete visto che ci sono dei lavori che non li vuole fare ormai più nessuno? Accusano il reddito di cittadinanza. Vedrete, vedrete, che quando toglieranno il reddito di cittadinanza quelli che hanno tra 18 e 59 anni, ci sono dei lavori che non li farà lo stesso nessuno. Perché andare a lavorare in un bar per meno di 1000 euro al mese, 6 o 8 ore al giorno, nessuno lo vuole più fare. Ecco, la gente preferisce chiedere i soldi al semaforo piuttosto che andare a lavorare in un bar per meno di 1000 euro al mese. Ecco, ci siamo capiti, no? Ci sono dei lavori che la gente non è che non li vuole fare più. Così in termini generali. La gente non vuole fare più i lavori dove è sfruttata. Per quello che non si trovano più camerieri, non si trovano più cuocchi, quelli che lavorano, non perché hanno il reddito di cittadinanza, ma perché quei lavori lì ormai sono da povertà. Ecco, lavori che rendono poveri. Questa è la realtà. Pertanto la mia idea è sempre la stessa. Fare immediatamente un salario minimo. Glielo chiedo, presidente Meloni, col mio piccolo canale da quasi 230 milioni di visualizzazioni, faccia questo benedetto salario minimo. L'ha detto anche lei che dovrà fare delle cose che elettoralmente non funzionano. Visto che quello del salario minimo magari si perde il voto degli industriali, ma si prende il voto di tanta tanta gente che vive in povertà col salario non minimo. Grazie a tutti e arrivederci a presto.